A causa della scarsità delle risorse idropotabili nella capitale, la sindaca Virginia Raggi ha firmato un'ordinanza con la quale ha disposto il divieto di utilizzare l'acqua in diverse occasioni, fino alla fine di settembre. I prelievi dalla rete idrica di distribuzione comunale, infatti, verranno consentiti esclusivamente per i normali usi domestici e sanitari. L'acqua potabile, invece, non potrà essere utilizzata, ad esempio, per irrigare orti e giardini, per riempire le piscine, lavare le auto e per qualunque uso ludico. Chi viola i divieti incorrerà in una sanzione amministrativa che va dai 25 ai 500 euro. Aceato 2, si legge nel documento, è impegnata a porre ogni attività utile al recupero della risorsa idrica, in modo da contenere il più possibile ogni eventuale disagio per i cittadini nella stagione estiva in corso. A fronte delle elevate temperature è necessario, dunque, contenere il consumo di acqua potabile, contrastando ogni possibile spreco rispetto alle prioritarie esigenze di igiene e di uso domestico.